Don't clean up this blood. Non pulite questo sangue. A testimonianza di quanto accaduto è la traduzione della scritta da brividi dolorosissima al contempo dello striscione della manifestazione di protesta contro l'alternanza scuola-lavoro con cui gli studenti medi di Venezia questo pomeriggio si sono dati appuntamento a una venta di piave dalle 16.30 davanti ai cancelli della BC Service, fabbrica chiusa perché posta sotto sequestro dopo la morte di Giuliano De Seta, il diciottenne studente di Ceggia morto schiacciato da una lastra di ferro in azienda durante lo stage venerdì pomeriggio scorso, studenti cui funerali notizie di oggi slittano certamente alla prossima settimana. Le indagini in corso, sebbene procedono a ritmi celeri e condotte dal PM della Procura di Venezia e la dottoressa Antonia Sartori, mirano a stabilire con esattezza chi fosse il tutor che affrancava Giuliano al momento della tragedia. E il punto sta tutto qui. Il tutor in assenza della persona, per così dire ufficiale, sembra quel venerdì pomeriggio scorso fosse quello effettivo, cioè la persona nominata tale in quel determinato frangente. Ed ora ci si chiede, chi era? E stabilito questo, la domanda successiva è, ne aveva le qualità? Elementi questi e interrogativi aperti e che una volta accertati daranno il via libera al dissequestro della salma di Giuliano per riconsegnarla alla famiglia, per disporne l'ultimo straziante saluto.